Benvenuto Presidente Conte, come sta? Buon pomeriggio, io sto bene, un saluto a lei e a tutti coloro che sono presenti e anche che ci stanno seguendo in streaming. Mi dispiace soltanto di non poter essere lì da voi, ma sono qui in Liguria e per ovvie ragioni siamo all'ultimo giorno della campagna elettorale e quindi ho dovuto volentieri, ho voluto continuare questo giro per continuare a raccogliere le stanze dei cittadini, ascoltare e cercare di dare una mano a un contributo per cambiare pagina qui in Liguria. Bene, la ringraziamo e saluto anch'io le italiane e gli italiani che ci stanno seguendo in diretta attraverso Corriere.it. Presidente Conte, partiamo dall'attualità più stretta e le chiediamo subito se il contratto con Beppe Grillo è finito o è in essere. Il contratto in essere sta avvenendo a scadenza, a scadenza che si sarebbero rinnovate però ho chiarito che è un contratto che prevede una prestazione, una remunerazione non per la sua funzione di garante ma per una funzione comunicativa che in questo momento non c'è e quindi fa venire meno le ragioni di questi esborsi monetari da parte dell'Associazione del Movimento 5 Stelle perché sono soldi degli iscritti che ovviamente io stesso avverto la necessità di amministrare con la massima cura. Perché il Presidente Conte l'accelerazione di queste ultime ore? Guardi, nessuna accelerazione, ripeto, nella logica di un contratto che gli esborsi monetari possono essere soltanto collegati a una prestazione quella originariamente concepita che era di rafforzare la comunicazione del Movimento 5 Stelle e non di remunerare la funzione di garanzia. Quindi a richiesta mi è stata fatta una domanda e ho risposto come rispondere sempre in modo trasparente in qualunque occasione. Presidente, una rottura che va considerata definitiva? Guardi, in questo momento il Movimento 5 Stelle è assorbito un poco da questa vicenda però mi permetta di dire che è una vicenda assolutamente marginale rispetto a quello che il processo costituente che una intera comunità sta vivendo. Tra l'altro una comunità non solo di iscritti ma anche una comunità che si è allargata, non iscritti che stanno partecipando a questo processo. Siamo assolutamente concentrati su proposte, soluzioni, nuovi obiettivi strategici. Siamo nel pieno di questo esperimento di comunicazione partecipativa e deliberativa e francamente, con tutto il rispetto, voi i giornali, i giornalisti, date molta enfasi a questo aspetto ma è un aspetto, come dire, contrattuale, dopo è scontato che se non c'è una prestazione non ci possa essere una controprestazione, in modo molto trasparente, chiaro e credo che questo sia l'aspetto minore di tutta questa vicenda. Presidente, adesso arriviamo tra un attimo anche agli altri temi che sono di politica e soprattutto di prospettiva le faccio altre due domande rapide sul tema, ha visto che i media italiani hanno usato questo termine molto forte, parricidio. È un termine che ha un senso o le sembra troppo enfatico? È un termine giornalistico, come ci sono tanti, è un termine che non ha molto senso perché, ripeto, si tratta, se il parricidio viene, non ho mai visto un parricidio compiuto attraverso o da un lato una risoluzione di un rapporto contrattuale dove ci sono prestazioni e controprestazioni che devono giustificare sul piano giuridico ed economico, punto. non credo che ci siano proprio i presupposti per ragionare in questi termini. È un'enfasi inutile, mi permetta di dire. Certo. Ecco, ha visto anche una dichiarazione un po' belenosa del figlio di uno dei fondatori Davide Casaleggio che ha detto ma fra Conte e Grillo non è che rimarrà uno solo, lui dice rimarrà un solo elettore. Lei ha dato un po' noia a questa frase così forte? Ma no, assolutamente. Guardi, Casaleggio, il figlio di Casaleggio, quando io sono arrivato mi è stato chiesto come prima cosa a gran voce di interrompere questo rapporto perché non era un rapporto trasparente. C'era da parte sua la volontà di non consegnare pure l'archivio degli iscritti, il che penso che sia una follia per un partito barra forza politica movimento che sia. Cioè che addirittura il leader di turno non aveva l'archivio degli iscritti, ce l'aveva Casaleggio e non li voleva consegnare. Credo che fosse una delle anomalie del movimento. Ha funzionato fino a un certo punto ma poi tutti quanti mi avevano chiesto di chiarirlo. Da allora purtroppo mi è toccato anche, purtroppo perché io avevo chiesto che fosse risolta questa questione prima che mi insediassi. Purtroppo non sono riuscito a risolverla, hanno delegato anche a me di risolvere quest'ulteriore nodo irrisolto. Da allora quindi io non parlo più di Casaleggio, Casaleggio vedo che parla ogni giorno del movimento, lo faccia pure tranquillamente, è un privato cittadino e voi potete anche rincorrerlo e chiedergli ogni giorno dei commenti sul Movimento 5 Stelle, se voglio dirne la libertà di stampa, siamo molto sereni su questo. Mi farebbe piacere però che poteste anche chiedere agli esponenti del Movimento a semplici scritti, se non addirittura a terzi estranei, come sta andando questo processo costituente, quali sono le questioni di cui stiamo discutendo, come mai questo esperimento che siamo i primi a realizzare in Europa, a cosa ci sta portando, a cosa prevedibilmente ci porterà. Però vedo che tutte queste questioni che sono poi quelle e la sostanza politica, noi stiamo discutendo di sanità, stiamo discutendo di lottare contro l'elevazione fiscale, stiamo perfezionando proposte per cercare di rilanciare il tessuto produttivo disastrato italiano, stiamo veramente discutendo sul ruolo dell'intelligenza artificiale che sta per esplodere nella nostra vita quotidiana e quindi in prospettiva sconvolgerà completamente i nostri assetti produttivi, i nostri modi di pensare. Ecco, di tutto questo non si parla e si commentano le parole di Casareggio. Io non partecipo a questo gioco. Presidente, ma in prospettiva il partito prevederà ancora un garante e le immagina che si possa pensare anche a un cambiamento di nome e di simbolo? Guardi, per come si è concepito questo esperimento di democrazia partecipativa e deliberativa, anche alcune di queste questioni sono confluite in quello che è il confronto deliberativo che si sta facendo. Cioè tra le 22 mila proposte che sono arrivate, molte riguardano anche la definizione della posizione mia anche personale del Presidente del Movimento 5 Stelle, come anche del Garante e tante altre questioni che lei ha menzionato. Ma tutto questo fa parte anche del confronto deliberativo. Un confronto deliberativo quindi che riguarda sia obiettivi strategici, temi, questioni concrete e riguarda anche alcuni assetti organizzativi del Movimento per essere sempre più efficaci e efficienti nell'azione politica. Ma in questo momento io non le so dire, perché lei non ci crederà. Ma questo è un confronto veramente affidato a 300 sorteggiati che sono iscritti e un campione rappresentativo dell'intera comunità e io parteciperò dei risultati e poi risultati, quei siti che verranno poi votati da tutti gli iscritti dell'assemblea finale come tutti gli iscritti. Quindi in qualche modo sarò anch'io, come dire, destinatario tra virgolette di queste proposte e poi ci sarà un dibattito interno in vista del voto. Ma è giusto che sia così perché noi oggi, guardo, in questo processo che sembra, forse a qualcuno apparirà anche così innovativo che può sembrare astruso, ha una sola finalità, di recuperare la partecipazione dei cittadini, l'effettiva partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche pubbliche, quindi degli obiettivi strategici di un partito o di una forza politica. Abbiamo bisogno di recuperare il loro impegno, di coinvolgerli e loro non possono sentirsi coinvolti ormai solo se li chiamiamo a rispondere a un quesito. Devono poter loro addirittura costruire il quesito, loro devono poter far pervenire proposte e quindi discuteremo dell'esito di questo confronto deliberativo tutti insieme. Presidente Conte, lei ha definito la manovra del governo Meloni un imbroglio, che è un'espressione forte. Perché ha deciso di usare questo termine? Ma guardi, è un imbroglio perché la Presidente Meloni, riconosco a lei una qualità, una buona capacità comunicativa e d'altra parte insomma è una capacità comunicativa sperimentata quando ha iniziato a fare politica molto giovane, da questo punto di vista non la definire un underdog, perché è una politica di lungo corso, di professione. Quindi ha maturato una grande forza comunicativa e conosce bene le tecniche della comunicazione. Quindi se io mi presento in TV e dico io ho aumentato gli investimenti nella sanità, io in realtà non dico un'affermazione in sé falsa. Attenzione, perché ogni Presidente del Consiglio ogni anno aumenta la spesa sanitaria, perché la spesa sanitaria cresce continuamente, perché in rapporto all'inflazione, ai costi energetici che ultimamente sono aumentati tantissimo, al costo del personale sanitario. Quindi dire ho aumentato la spesa è un conto, però se poi andiamo a vedere i criteri con cui vengono abitualmente commisurati questi investimenti, andiamo a vedere che la spesa è riprecipitata sanitaria al 2007, al 6,3% di PIL e questo è il parametro. E allora si tratta di definanziamenti in senso tecnico, meglio ancora di avere proprio sostanzialmente tagli. Per esempio, quei soldi in più che sono stati messi non bastano eppure, come erano i propositi, per remunerare più adeguatamente il personale sanitario, che è in forte crisi, perché fa turni massacranti, perché forti difficoltà, perché non reggiamo la competizione. Qui in Liguria addirittura abbiamo medici sanitari che preferiscono andare in Francia, in Germania, in Svizzera, dove sono molto più remunerati. Sono briciole. Se qualcuno legge, è un rapporto non molto complicato, veramente da un istituto indipendente come Gimpe, ha fatto l'analisi puntuale di quelle che sono le misure per questa legge di bilancio. Ne viene fuori che cosa? Ne viene fuori l'immagine concreta di un governo che non comprende che la sanità è al collasso. Ci sono 4 milioni e 500 mila cittadini che rinunciano alle cure. Giorgia Meloni, adesso viene, ho saputo che viene anche lei qui in Liguria. Ecco, io ho girato tanti ospedali, presidi sanitari, Villa Scassi a Genova, Sant'Andrea Savone e tanti altri. Ecco, lei piuttosto che arrivare con l'aereo, salire su un palco e declamare queste mezze verità e menzogne, dovrebbe forse fermarsi in qualche pronto soccorso e scoprirebbe che anche qui in Liguria, come nel resto dell'Italia, ci sono dei cittadini che arrivano al pronto soccorso e aspettano anche due giorni per essere visitati, ma non perché c'è un personale sanitario che li tiene lì incurante, perché il personale sanitario è sofferente ed è stressato. Potrebbe scoprire, ad esempio, e cito dei casi concreti, addirittura cittadinanza attiva, ha certificato la scorsa estate che qui ci sono persone che attendono per un esame cardiologico oltre 400 giorni, è successo anche questo. Ora, un esame cardiologico, se viene prescritto, forse qualche ragione anche di sottoporsi a quest'esame, c'è qualche ragione fondata. Il risultato però qual è? Che o i cittadini oggi possono permettersi la sanità privata e allora l'esame cardiologico lo puoi fare anche domani mattina, fra due o tre giorni, ma devi pagare, ma se non ti puoi permettere di pagare l'esame, se non c'è un'assicurazione privata, tu addirittura rinunci e allora ti affidi alla sorte del buon Dio, vediamo come andrà, se il mio cuore reggerà. Ecco, tutto questo è indecente e indegno, soprattutto rispetto al fatto che la Presidente Meloni le faccia oggetto di propaganda politica. Tra un po', ma parliamo di pochi minuti, lei salirà sul palco di Genova con Elislein e quindi ci sarà un palco comune, come è già successo. Questo palco comune è un'esigenza elettorale, è una scelta tattica o è una volontà strategica? Guardi, quante domande, quante alternative! In realtà noi ragioniamo in modo molto più semplice, c'è stata la possibilità che abbiamo avvertito forte la necessità, abbiamo raccolto su questo palco, come si fa, Piazza dei Ferrari a Genova un grande grido unitario per una svolta per quanto riguarda il governo della regione e non siamo rimasti insensibili come il Movimento 5 Stelle rispetto a questo appello, a questa istanza di voltar pagina, perché qui addirittura è venuto fuori in tutta la sua concretezza e anche, vorrei dire, nei suoi dettagli operativi un modo di far politica completamente marcio, un sistema ammalato di mala politica, dove c'era lo scambio tra amici imprenditori e ovviamente i vertici della regione che si accomodavano incontrandosi in circoli privati, cene riservate, in yacht, per scambiare l'interesse del singolo imprenditore a procacciarsi una speculazione sempre più vantaggiosa, che poteva ad esempio essere la proroga di una concessione demaniale, scambiarla con il finanziamento al Presidente della regione, finanziamento della sua campagna elettorale. Attenzione, questo è un sistema marcio, malato, perché provoca tre grandi deviazioni. Primo, l'imprenditore privato che si procaccia l'affare in questo modo, ovviamente procura concorrenza sleale a tutti gli imprenditori onesti che vengono fatti fuori. Secondo, il politico che si procaccia un finanziamento della campagna elettorale in questo modo ovviamente fa concorrenza sleale agli altri politici, come noi del Movimento 5 Stelle che addirittura ci autofinanziamo e quindi siamo molto svantaggiati. Terzo, loro parlano e fanno credere che in questo modo realizzano il progresso, nuove strutture, nuovi investimenti per la regione Liguria, ma in realtà non abbiamo nessuna garanzia che tutte queste operazioni hanno realizzato e hanno conseguito l'interesse pubblico, l'interesse dei cittadini, perché sicuramente hanno realizzato l'interesse di due soggetti, un politico e un imprenditore che hanno avuto questa convergenza illecita di interessi, ma non possiamo dire che hanno fatto l'interesse di tutti i cittadini perché se avessero investito soldi per un pronto soccorso, per potenziare un ospedale che cade a pezzi, per migliorare le infrastrutture esistenti, viarie e ferroviarie che sono malandrate addirittura, non hanno carenza per quanto riguarda sia la manutenzione ordinaria che straordinaria, se fossero intervenuti per tutelare l'ambiente, evitare la speculazione edilizia, allora sì che potremmo parlare di cura del bene comune, dell'interesse dei cittadini. Sa meglio di me che nelle università ci sono i cultori della materia e quindi noi giornalisti siamo tutti i cultori della materia, rapporto fra Elis Line e Giuseppe Conte e c'è un termometro che va da zero gradi che è il gelo a 40 gradi che è grande amicizia. Quanti gradi abbiamo oggi? Oggi qui è una giornata piovosa per quanto riguarda, però nonostante, vede, noi saremo sul palco insieme perché qui c'è un progetto per la Liguria, un progetto serio a cui il Movimento 5 Stelle ha contribuito ovviamente chiedendo e ottenendo di perseguire, di mettere al centro di questo progetto degli obiettivi politici specifici, ovviamente in termini di sanità soprattutto, in termini di giustizia sociale, grande attenzione a fasce della popolazione che qui in Liguria appaiono sempre più impoveriti, ormai un impoverimento che riguarda anche il cosiddetto ceto medio. Le infrastrutture, noi siamo sì per le infrastrutture, guardi, veniamo descritti come quelli del no alle infrastrutture, si ricordi che io sono quello del ponte San Giorgio di Genova, un anno e qualche mese, un gioiello di architettura realizzato in tempi record che il mondo ci ha invidiato, quel decreto, i finanziamenti li ho fatti io nel conte 1, vorrei ricordare, e ancora siamo quelli di tantissime infrastrutture, elettrificazione del porto di Genova, di Savona e tanti altri, adesso non le sto qui a ricordare, noi siamo sì per tutte le infrastrutture utili per i cittadini, non utili per gli imprenditori, quindi queste istanze sono state raccolte, ci fidiamo di Andrea Orlando che ha le qualità per far bene, per essere interprete di questo progetto, quindi ritornando al termometro, il termometro segna asticelle, tutte le asticelle sono in positivo. Come lo dobbiamo chiamare? Ci aiuti perché ci siamo persi? Campo largo, campo giusto, come aveva suggerito lei, qual è a questo punto il termine corretto? Dottor Postiglione, le do un consiglio, si astenga dal chiamarlo, ci lasci lavorare, scusi la battuta, ma lo dico anche perché voi giornalisti… No, in effetti guardi, succede sempre che c'è la urgente necessità di trovare delle formule, formule un po' che oscillano tra il politicista e il politichese, formule giornaliste, noi abbiamo detto che qualsiasi progetto di governo di un territorio, di una città, di una regione in prospettiva ovviamente alternativa alla Meloni a livello nazionale, non può che passare da un confronto serio che va fatto a tempo debito su obiettivi politici, su una definizione di programmi comuni che siano addirittura marchiati, positivamente intendo, dall'etica pubblica, perché a fronte di tutto, a monte di tutto ci deve essere anche un principio di etica pubblica, siamo qui non per conseguire posizioni di potere, ma queste posizioni devono essere degli incarichi pubblici ricoperti con onore e disciplina per perseguire l'interesse dei cittadini e questa è la nostra filosofia, quindi qualsiasi progetto dovrà muovere da questa premessa e su queste basi possiamo trovare sicuramente in prospettiva delle sintesi come abbiamo fatto qui in Liguria e come abbiamo fatto anche in altre parti d'Italia. Chiudiamo con una domanda larga, anche se vuole un po' filosofica, visto che il nostro festival di Casa Corriere si chiama Democrazia e diritti, Democrazia e potere, ma c'è ancora posto per una forma di democrazia diretta o è stata solo un'illusione degli ultimi anni o come si può rimodulare e rimmaginare? Guardi, il Movimento 5 Stelle da questo punto di vista è stata una forza fortemente innovativa, innovativa, innovativa non solo per l'approccio, un approccio anche vivace, anche sul piano verbale a tratti giudicato aggressivo, ma è chiaro che per rompere un po' un sistema incrostato occorreva farsi sentire, occorreva dare gomitate per conquistarsi uno spazio, però diciamo il principio fortemente innovativo e l'intuizione direi fondamentale sarà quella di evitare che si creassero meccanismi di governo oligarchico dei partiti tradizionali e quindi il principio della democrazia, nell'intuizione di Casa Leggio Padre la democrazia è stata la democrazia diretta e perché lui era un grande cultore dell'ambiente infotelematico di internet e web e quindi era lo strumento infotelematico per poter consentire a tutti gli iscritti di poter esprimere e continuamente partecipare alle decisioni. La democrazia diretta presuppone però un quesito, nel momento in cui c'è un capo che sceglie il quesito, quando far votare, come far votare la formulazione stessa del quesito, lei comprende che c'è un che di intrinsecamente manipolativo in questa operazione. Basta scegliere un momento diverso e sicuramente il risultato può cambiare e questa è la democrazia diretta. Noi oggi stiamo sperimentando addirittura, secondo la letteratura anche scientifica più avanzata, la democrazia deliberativa e partecipativa. Quindi non sono io ad aver scelto dei quesiti da far votare, ma addirittura è la base che ha fatto per venire 22 proposte, 22 suggerimenti, 22 riforme e adesso c'è questo confronto deliberativo, quindi è sempre un campione della base che si sta confrontando per affinare quelli che saranno i quesiti che poi verranno votati dal web alla fine da tutti gli iscritti. Quindi a questo punto di vista noi rilanciamo non più solo democrazia diretta, ma democrazia deliberativa e partecipativa, cioè effettiva partecipazione degli iscritti e non solo, anche i non iscritti, a definire gli obiettivi politici strategici del Movimento 5 Stelle del futuro. Quindi andiamo ben oltre e è un bagno di democrazia che io spero serva anche a recuperare quella che è la sfiducia attuale dei cittadini anche all'interno delle forze politiche, un certo disinteresse, disimpegno, una scarsa affezione. Ecco, dobbiamo recuperare una piena ed effettiva partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche e noi lo stiamo facendo addirittura coinvolgendoli nella formulazione dei quesiti, nell'ascolto prima dei bisogni, formulazione dei quesiti e poi ovviamente la votazione offerta a tutti. Da questo punto di vista non c'è un altro partito, un'altra forza politica che si stia mettendo in discussione come noi adesso, così radicalmente, così coraggiosamente. Io la ringrazio molto per la partecipazione perché è stato con noi qui a Casa Corriere e buon lavoro Presidente, grazie. Sono io che vi ringrazio, ringrazio lei e tutti quanti, grazie davvero.